Un bando per il sostegno del pagamento dell'affitto per le spese sostenute nel 2020 pubblicato sul sito del Comune. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione deriva da un finanziamento dello Stato ripartito dalla Regione del Veneto a cui il Comune di Vicenza copartecipa con fondi propri che quest'anno raggiungono la cifra di 400.000 euro, quasi triplicata rispetto ai 150.000 euro sono destinati a questo scopo nel 2019 e nel 2020. Un aiuto importante a quelle persone che sono in difficoltà a pagare l'affitto. L'anno scorso l'abbiamo fatto sia per l'anno 2018 e 2019 e aumentando quella che è la copartecipazione del Comune al Fondo Regionale. Più soldi il Comune emette, più soldi la Regione copartecipa alla spesa. Quindi anche quest'anno con una cifra molto più importante degli altri anni e parteciperemo alla spesa con 400.000 euro solo per gli affitti non pagati nell'anno 2020. Questo ci consentirà di poter dare un aiuto concreto a molte più famiglie. Famiglie che si scontrano con la contrazione del reddito anche a causa del Covid che ha portato molti nuclei in difficoltà anche per il pagamento delle locazioni. Lo scorso anno più di mille nuclei hanno beneficiato di questo aiuto. Per partecipare si può fare domanda a partire dal lunedì 8 fino al 30 novembre. Si possono presentare in modo telematico in autonomia oppure attraverso tutti i CAF dei sindacati che si sono convenzionati con noi per questa attività. Tra i requisiti per accedere al contributo è richiesta la residenza a Vicenza e un ISEE non superiore a 20.000 euro. Non si deve inoltre abitare in alloggi ERP.